Onorevole De Castro, a rischio il programma di aiuto alimentari per i più poveri. Quale iniziativa sta prendendo il Parlamento europeo per scongiurarlo? Assolutamente sì, è a rischio. Sei Stati membri hanno creato una minoranza di blocco e ciò che è grave è che cinque di questi sei Paesi membri non hanno questo programma, quindi impediscono al resto dell'Europa di applicare un programma che, ricordiamolo, fornisce cibo gratuito per oltre 18 milioni di poveri europei. Noi come Parlamento oggi solleviamo la questione in aula e chiediamo con forza alla Commissione e al Consiglio di consentire il proseguimento di questo programma. Siamo consapevoli che la Corte di Giustizia ha bloccato il programma nel futuro, rifaremo le norme, ma nel frattempo non possiamo interrompere questo straordinario e importante programma che, ricordiamolo, costa appena 500 milioni di euro, quando gli Stati Uniti ne spendono ogni anno più di 20 miliardi di dollari.